Vengono dalle tasse, no? Ma chi le paga le tasse? L'anno prossimo, chi avrà i soldi dopo un anno così per dare qualcosa allo Stato? Oh, Floris, non facciamo questo, perché se fossimo in uno Stato normale, cosa si farebbe? Diciamo, ci stai rimettendo, purtroppo c'è il Covid, vediamo le dichiarazioni dei redditi dell'anno scorso, ti do il 50, il 60, l'80, secondo i soldi che ho. Di quello che avevi dichiarato e adesso non puoi dichiarare, e sarebbe automatico. Il problema è che scopriremo di non avere, oh che novità, fedeltà fiscali in questo Paese, quindi io non lo propongo. Però chi può pagarle le tasse deve pagarle, ok? Perché se qui passa il tema, che siccome siamo nel Covid, anche chi sta guadagnando, e ce n'è, deve essere esentato dall'Ira, come abbiamo fatto, ci abbiamo smenato 2 miliardi che dovevano andare ai bar e ai ristoranti, eh? Sì, Leri, in questo momento...